Il 10 maggio scorso un incendio originato dalla torre di raffreddamento si è sviluppato in pochi minuti all'interno dello succherificio di Brindisi. La gestione dell'emergenza da parte dell'azienda e il rapido intervento dei vigili del fuoco hanno fatto sì che le fiamme fossero prima contenute e poi spente. Ma l'incidente ha riaperto la discussione sui rischi di una zona industriale vicinissima al centro abitato e potenzialmente pericolosa per le dimensioni degli impianti e la delicatezza dei materiali trattati. A un piano di emergenza esterna che indichi in caso di incidenti rilevanti in che modo agire complessivamente per mettere in salvo non solo il personale dell'azienda coinvolta ma anche la popolazione. Sono solo sei gli impianti individuati come ad alto rischio di incidente. Il petrolchimico primo fra tutti ovviamente e poi la Sanofi che produce farmaci, la Basel fabbrica di plastica e gomma, la IPEM dove viene stoccato il GPL, la Versalis che produce la plastica e naturalmente la centrale elettrica di Cerano, la più lontana dalla città. Osservando la planimetria redatta dai tecnici, si è il quadro preciso di come la città sia vicinissima agli impianti considerati pericolosi e in verità ognuno di essi, proprio il mese scorso, ha predisposto un piano di emergenza sia interna che esterna in caso di incidente approvato dalla prefettura di Brindisi. Ma come ha evidenziato Legambiente, non esiste un piano unico di emergenza e in più le aziende che non rientrano tra quelle considerate a maggior rischio, come lo zuccherificio appunto, in realtà potrebbero scatenare effetti a catena in caso di incidente in quanto situate in prossimità degli stabilimenti a rischio. Sul piano di emergenza esterna si sta lavorando in realtà da tempo, con il coordinamento della prefettura, gli enti locali, le forze di polizia, la protezione civile, i vigili del fuoco hanno fornito il loro contributo e le loro proposte concrete, ma il documento è fermo da tempo alla regione Puglia.